L'inquinamento dell'ambiente, podcast italiano di livello B1-B2. L'inquinamento del nostro pianeta è causato principalmente da quello che noi uomini gettiamo nell'ambiente, cioè i rifiuti. Molte volte non pensiamo alle conseguenze che potrebbero avere le nostre azioni sull'ambiente e sfruttiamo la natura senza metterci dei limiti. Questo atteggiamento è pericoloso perché potremmo trovarci in una situazione abbastanza grave. Dobbiamo usare le risorse in maniera sostenibile. Per avere un mondo meno inquinato bastano dei piccoli gesti quotidiani. Sono azioni che sembrano scontate ma che molte volte ci dimentichiamo di compiere. Per esempio, mentre ci laviamo i denti, dovremmo chiudere il rubinetto per risparmiare acqua preziosa. Quando dobbiamo fare dei piccoli spostamenti sarebbe meglio utilizzare i mezzi pubblici, andare a piedi o addirittura in bicicletta. Al posto di costruire le discariche per smaltire i rifiuti dovremmo fare meglio la raccolta differenziata e il riciclaggio. Al posto di spray e detersivi dovremmo usare prodotti biodegradabili. Al posto del petrolio sarebbe meglio usare delle fonti di energia alternative come l'energia solare, quella eolica e quella idroelettrica. Dobbiamo assolutamente proteggere il nostro pianeta o l'inquinamento lo distruggerà.